Ringrazio il dottor Fettuccia per essere presente tra noi, per questa presentazione e per dare avvio a questa sezione di un'altra delle iniziative di simbola. Mi corre l'obbligo prima di tutto di fare dei saluti, saluto Hermede e Fabio che sono un po' l'anima di questa iniziativa e che hanno profuso tante energie affinché in questi nove anni che sono un po' quelli trascorsi a Treia abbiamo percorso insieme, certamente con un loro grande impegno. E' un nuovo inizio per noi dopo la pandemia, coniugando questa sezione parte in presenza e parte in web. Il web è dove potranno essere seguite tutte le altre giornate e dove abbiamo sempre più un pubblico enorme che le segue e che non potrebbero essere contenute comunque in questo teatro. Ringrazio della presenza e il sostegno il Presidente della Regione Marche che dovrebbe essere presenza online, il Vice Presidente Carloni e la Presidente della Regione Umbia Tesei che dovrebbero essere ugualmente collegati con noi. Gli assessori Castelli e Ladini che probabilmente fra un po' arriverà in questa sala e soprattutto per la collaborazione ancora una volta decisiva per questo festival del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Giulio Sabatini e del Presidente della Banca della Provincia di Macerata Dottor Ferdinando Cavallini. Un saluto carissimo al Commissario straordinario della Ricostruzione Giovanni Legnini e ai sindaci impegnati nella cabina di regia sulla ricostruzione Nicola Lemanno di Norcia e Augusto Curti che dovrebbe però essere tra noi. Saluto per l'Università di Camerino vedo solo Massimo Sargolini dovrebbe arrivare anche il Rettore Pettinari che hanno collaborato alla redazione del documento sui nuovi sintieri dello sviluppo post-sisma dell'area dell'Appennino e che ora stiamo utilizzando per guardare con una certa strategia il percorso del contratto istituzionale di sviluppo. Siamo oggi tutti impegnati a lavorare insieme per superare le crisi di questi ultimi anni per uscire sì da questa pandemia ma anche per affrontare il tema della ricostruzione rispettando anche tutte le prerogative delle istituzioni e delle comunità aiutando soprattutto le persone e le imprese. Questo è un impegno che non ammette diserzioni in questo momento perché come dice Simbola nel sottotitolo dell'iniziativa di quest'anno nessuno si salva da solo o da soli non si può. e nessuno può essere lasciato indietro diciamo noi in un momento di difficoltà come questo. Sono ormai nove anni che i temi della transizione verde, la presentazione di studi e analisi, la ricerca di ricette per immaginare un futuro stabile e chiaro per le aree interne dell'Appennino focalizzano l'impegno degli amici di Simbola su temi che ora scopriamo sono divenuti il principale obiettivo dell'agenda del futuro dell'Europa, del nostro paese e della nostra regione e vitali per i nostri territori. A nostro avviso oltre le risorse del PNRR per ripartire occorrerà ricostruire in primis la fiducia verso il futuro e la collaborazione tra i territori e le istituzioni, pensare sempre più a un'economia a misura d'uomo con un forte intervento pubblico sì ma soprattutto a portare a questa, alla macchina pubblica una massiccia dose di semplificazione, sburocratizzazione e fiducia nel cittadino. Molte lezioni di questi giorni difficili non andranno sicuramente dimenticati, la centralità della sanità del territorio, la necessità di rafforzare alcune politiche pubbliche come quelle sociosanitarie della buona scuola, la rivalutazione del sistema agroalimentare e degli ecosistemi forestali, l'importanza del buon funzionamento degli enti locali, infrastrutture, immateriali ma basilari in quanto sorreggono la vita di tutti i giorni i nostri cittadini soprattutto in situazioni di emergenza. Pensiamo sia necessario non disperdere queste energie che si sono costruite in questo periodo ma sia bene censirle, chiamarle a raccolta, evocarne di nuove. Abbiamo un'opportunità che consiste nel provare a ripartire impostando sin da ora il domani dell'Italia secondo un modello di sviluppo diverso e migliore. Non potremmo affrontare con successo la sfida che ci attende puntando solo su un necessario e imponente intervento pubblico, così come questo non è il solo banco di prova di questa nuova Europa. Servono valori e culture, empatia, tecnologia, servono le risorse delle persone e delle imprese e la convinzione che la coesione sociale in economia come in tutte le situazioni che siamo chiamati ad affrontare è un elemento determinante, impossibile senza ruolo forte del terzo settore, senza una valorizzazione delle istituzioni locali a partire dai borghi, dai piccoli borghi, dai piccoli comuni, dai medi comuni. di queste nostre aree interne. Per permettere un'efficace partecipazione di tutti allo sforzo comune è più che mai necessario indirizzare l'azione dello Stato verso una rapida e massiccia opera di semplificazione e sburocratizzazione che è solamente iniziata ma non ha dato ancora i frutti sperati. Esistono già strumenti legislativi che vanno nella direzione di dare maggior fiducia al cittadino ma la politica un po' ruffiana di questi ultimi anni non ha consentito di sviluppare logiche meno speculative magari ricercando l'attivazione anche di risorse private. Pensiamo a tutto il settore della riqualificazione edilizia e urbana. Già oggi il credito d'imposta, l'eco bonus, il sisma bonus e il bonus verde muovono molte risorse e producono anche decine e centinaia di migliaia di posti di lavoro, riducendo inquinamento e bollette e rendendo più belle e sicure le nostre città. Abbattendo le barriere burocratiche e permettendo la gestione del credito sarà possibile una loro forte espansione. Occorrerebbe però avere tempi più lunghi a disposizione affinché non si inneschino fenomeni speculativi come quelli in atto sulle materie prime e magari incentivi che premino chi ha veramente bisogno di ristrutturare o mettere in sicurezza la propria abitazione per viverci e magari non stimolare la speculazione dei soliti furbi sempre più organizzati. Per sfruttare i vantaggi fiscali a mio avviso troppo laudi del 110%. Anche nella ricostruzione come il caso del sisma che ha colpito l'Italia centrale abbiamo accumulato ritardi per l'incapacità di attivare una filiera pubblica locale consentendo di portare decisioni lontane dai nostri territori. Un insulto che non possiamo più permetterci ed elogiando oggi l'inversione impressa con l'attività del commissario Legnini che comunque ha dovuto compiere un'opera immane per il superamento della burocrazia che avevamo intorno alla ricostruzione. Dicevo elogiando oggi questa sua impresa siamo molto in apprezzione perché ad esempio l'iniziativa del contratto istituzionale di sviluppo che dovrebbe affrontare il tema dello sviluppo di queste aree e non solo la ricostruzione è stato affidato da scienzie che non conoscono questa realtà e hanno sistemi di gestione burocratica delle risorse di vecchio stampo infarcite di burocrazia. Chiediamo quindi agli amministratori regionali presenti o in ascolto oltre una precisa valutazione delle proposte che debbono coinvolgere fette importanti di territorio essere orientato il contratto istituzionale di sviluppo a nuovi modelli di economia e non solo iniziative diciamo premiare iniziative di livello campanilistico il cosiddetto svuota cassetti rispetto alle strategie vere di rilancio di queste aree. Anche una valutazione immediata sarebbe da fare delle modalità attuative che verranno messe in campo da Invitalia e dall'agenzia per la coesione e richiamare subito un governo oggi più attento e veloce di prima ad un cambio di marcia se tutto questo dovesse ricadere nelle vecchie logiche dell'impossibilità di spendere in tempi rapidi le risorse disponibili. Ecco qui dovremmo stare tutti molto attenti e non avere neanche diciamo il timore di intervenire anche molto diciamo a gamba desa se ciò questo non dovesse accadere. laddove si è capito che è necessario correre e lavorare insieme i risultati sono arrivati. La progressiva digitalizzazione del paese è testimone proprio in questi giorni di pandemia dell'importanza dell'opera di connessione in fibra dell'Italia intera. non solo di alcune zone più fortunate con lo sviluppo dei sistemi di tracciamento come quello avvenuto per lo sviluppo dei sistemi di tracciamento del virus e la gestione dell'imponente opera di vaccinazione della popolazione. il seminario di simbola ha presentato proprio in questo teatro moltissime idee in merito allo sviluppo delle aree interne ormai quasi da un decennio. I temi di simbola sono oggi divenuti i temi dell'agenda europea come dicevo e del nostro paese. Transizione ecologica, green economy, economia circolare, resilienza e qualità del turismo e degli sport outdoor, filiere bosco energia e bosco lavoro sono ormai i temi più discussi in questo spazio culturale che qui a Treia si è sviluppato con organicità e conoscenza approfondita dei contesti della zona appennitica e delle aree interne. Un formidabile sviluppo è in corso ad esempio nella microgenerazione e nel campo delle fonti rinnovabili. Dobbiamo farlo nel rispetto dell'ambiente, certo, ma superando vingoli e ritardi oggi incomprensibili sia a livello nazionale che regionale. Oggi nelle nostre realtà si presenta l'opportunità del rinnovo ad esempio e potenziamenti dei parchi eolici e fotovoltaici esistenti, lo sviluppo di importanti iniziative legate all'agrivoltaico, l'economia circolare nel settore dei rifiuti, con la realizzazione di modelli di gestione porta a porta che necessitano di impianti per la trasformazione dei reflui urbani e dei reflui organici in biometano e questi possono essere collegati ad un'agricoltura sempre più orientata alla sostenibilità a partire dalla tutela dei suoli e dalla cura dei territori. Ho quasi finito. A questi aspetti vanno programmate le risorse del PNRR e dei fondi strutturali di prossima emanazione non ripercorrendo vecchi ridi e interessi non risolutivi dei problemi esistenti. Noi siamo un po' vincolati ad alcune, diciamo così, mentalità sia delle nostre organizzazioni di categoria sia degli interessi in campo che non propongono novità perché è troppo comodo mantenere lo status quo. Diciamo che su questo insomma dobbiamo fare un grande salto verso la novità. Insieme a tante altre possibilità possiamo da subito mobilitare risorse economiche e produrre nuova occupazione, contribuire a affrontare la crisi climatica, avvicinare l'obiettivo di azzerare il contributo netto di emissione dei gas climalteranti che è alla base di un documento importantissimo come quello prodotto da Simbola con grande impegno di Ermete e Fabio come il manifesto di Assisi e non abbandonarci a valutazioni minimalistiche come quelle che abbiamo potuto leggere in questi giorni e questa è una piccola polemica propinate da secondo me visioni diciamo allegato a una vecchia economia propinate anche da decotti politici di rango che ipotizzano soluzioni di spopolamento programmato dell'Appennino e l'abbandono di alcune aree perché diciamo così l'economia di scala dei servizi non sarebbero positive e la dismissione degli insediamenti più marginali della popolazione appennitica concentrandoli in aree dove sia possibile organizzare una specie di resistenza e di presenza di servizi. I ritardi, i teoremi e le periodizie di ieri non sono più accettabili se vogliamo superare questa crisi e riconnettere questi territori. In ampia motivazione dico che è vero il contrario, dobbiamo far vivere di più queste aree, dipende anche dal concreto nostro impegno e coraggio, nelle istituzioni che guidiamo, nelle rappresentanze dei sistemi di impresa e di tutti, costruire una visione, concentrare su questa le risorse ora disponibili e cercare di avere un nuovo sogno social, di un mondo più pulito, civile e gentile. Vi ringrazio della presenza, ringrazio soprattutto Simbola di aver scelto, sperando che questo continuo anche in futuro, Treia, per continuare a lavorare su questi temi, soprattutto perché ora dovremmo essere molto vicili sull'attuazione, sì dei temi che abbiamo sviluppato qua, ma anche dei problemi eventualmente che si svilupperanno legati all'attuazione e all'applicazione dei fondi del PNRR, dei fondi legati alle politiche strutturali europee e di tutto quello che anche, diciamo, le amministrazioni locali a partire dalla regione metteranno in campo. Grazie a tutti e buona serata e buon convegno.